Il Comune di Seregno è stato commissariato a Antonio Cananatra che terrà l'amministrazione ad elezioni anticipate. L'ex sindaco Edoardo Mazza, i domiciliari per corruzione, è stato interrogato per due ore in un'altra inchiesta a Pavia, arrestati due ex dirigenti di Asma. Il pubblico ministero di Milano ha chiesto la convalida del fermo di custodia cautelare in carcere per il 39enne che ha molestato una 13enne a Milano. L'uomo ha detto ai giudici curatemi. Riunione all'ortica per la giunta comunale di Giuseppe Sala tra le priorità affrontate, la situazione in via Rizzoli e quella in città studi che dovrà programmare lo spostamento delle facoltà scientifiche della statale nell'ex area Expo. Dopo 22 anni le Acri tornano in piazza per una tre giorni di festa e riflessione su Milano città inclusiva ad aprire l'evento nel pomeriggio l'ex premier Prodi e il sindaco di Milano Sala. Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura, come avete sentito dai titoli del nostro sommario, la vicenda di Seregno è stato interrogato per due ore Edoardo Mazza, l'ormai ex sindaco del comune Brianzolo che si trova agli arresti domiciliari, accusato di corruzione. L'uomo politico ha chiarito la sua posizione, ha detto l'avvocato difensore e ha evidenziato delle criticità che sono emerse nell'inchiesta. Intanto il comune è stato commissariato e il commissario Antonio Cananà, nominato dal prefetto, traghetterà l'amministrazione fino alle elezioni. Alberto Carreras. Si metterà al lavoro in tempi rapidissimi il neocommissario del comune di Seregno, Antonio Cananà, nominato dal prefetto di Monza, Giovanna Vilasi, su delega del ministro dell'interno Marco Minniti. La nomina si è resa necessaria dopo il terremoto provocato dai 27 arresti, tra i quali il sindaco di Seregno Edoardo Mazza di Forza Italia, nell'inchiesta della procura di Monza e della DDA di Milano, sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in Brianza. Ieri a Palazzo Landriani si erano dimessi in massa assessori e consiglieri comunali di maggioranza, Forza Italia e Lega Nord, e di minoranza, centrosinistra, Cinque Stelle, liste civiche. Ultimo dimissionario il sindaco Mazza, che si trova agli arresti domiciliari. In mattinata anche il vice sindaco Giacinto Mariani della Lega Nord aveva firmato la lettera di dimissioni. Mariani, che è stato anche sindaco per due mandati, è sempre stato considerato l'uomo forte, il perno centrale della giunta di Seregno, cittadina di 45 mila abitanti nella provincia di Monza. Il ministro dell'interno Minniti ha chiesto al prefetto di Monza di verificare se nell'amministrazione pubblica di Seregno esistano collegamenti con la criminalità di tipo mafioso. Un'intera giunta è stata annientata nel giro di 48 ore dal maxi blitz operato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. L'ex sindaco Mazza ha fatto sapere che intende chiarire tutto e il vice sindaco Mariani afferma di essere stato il primo a denunciare l'illegalità. Il capogruppo del Partito Democratico, William Viganò, auspica che Seregno possa voltare pagine e avere un'amministrazione la cui onestà sia fuori dubbio. Adesso il neocommissario dovrà gestire la normale amministrazione e traghettare il comune verso le elezioni anticipate che potrebbero avvenire nella prossima primavera unitamente a quelle nazionali. I carabinieri di Pavia hanno arrestato nella notte due ex dirigenti di Asma Pavia, la multiutility del comune che si occupa tra l'altro della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e due imprenditori. L'inchiesta riguarda irregolarità per l'assegnazione di appalti pubblici. Un filone che parte dalle indagini avviate due anni fa dalla procura di Pavia, che portarono all'arresto di quattro ex dirigenti di Asma Pavia dopo che era stato scoperto un buco nel bilancio della municipalizzata di 1.800.000 euro. I provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri hanno riguardato Claudio Tedesi, ex direttore generale di Asma Pavia, l'avvocato Marcello Rainò, già responsabile delle risorse umane dell'azienda e due imprenditori. L'inchiesta riguarda fatti avvenuti tra il 2014 e il 2015, tra cui un affidamento per la revisione delle caldaie e la gara per la gestione calore, un affare da 18 milioni di euro. Il PM di Milano Gianluca Prisco ha chiesto la convalida del fermo di custodia cautelare in carcere per Edgar Bianchi, il barman di 39 anni che avrebbe molestato una tredicenne a Milano due giorni fa. L'accusa è di violenza sessuale aggravata. Intanto sta destando molte polemiche e rabbia la vicenda, visto che l'uomo era già stato condannato per una ventina di violenze. Serve la castrazione, dice Roberto Calderoli della Lega Nord, un fatto inammissibile per Daniela Santa anche di Forza Italia. Sta destando incredulità e rabbia la vicenda del presunto molestatore di una ragazzina di 13 anni aggredita mercoledì pomeriggio nell'androne di casa in zona Gambara a Milano. L'uomo, Edgar Bianchi, 39 anni di professione barman, è stato arrestato dalla polizia dopo che si è presentato in procura per costituirsi con il suo avvocato. Un centinaio di poliziotti gli stava dando la caccia intorno ai caseggiati popolari di piazza Selinunte a San Siro, dove abitava. Attualmente lavorava per un'azienda di catering. Il 39enne era già stato condannato per una ventina di violenze sessuali avvenute a Genova, dove era conosciuto come il maniaco dell'ascensore. Era già stato condannato a 14 anni di carcere per violenze avvenute esattamente con le stesse dinamiche ai danni di ragazze minorenni. Ha scontato 8 anni ed è uscito dal carcere nell'agosto del 2014 e in queste ore gli investigatori sono al lavoro per ricostruire gli ultimi mesi e le ultime settimane e capire se Bianchi si sia reso responsabile di altri atti di violenza, come quello avvenuto ai danni di un'altra ragazzina due settimane fa. Ci si chiede come sia possibile che dopo tutte le molestie, le violenze e le condanne non siano state adottate misure preventive. 14 anni, 8 mesi in primo grado, ridotti a 12 in appello e poi ulteriormente scontati da un indulto. La carriera di molestatore era iniziata a Genova nel 2004. Prendeva sempre di mira ragazze tra i 12 e i 15 anni, le seguiva, entrava con loro a casa e una volta nell'ascensore le minacciava, le palpeggiava e a volte le costringeva a un rapporto. Quindi che si possa definire un seriale lo ritengo che si possa dire serenamente. Al ginocchio portava un tutore, cosa che è stata riferita anche dall'ultima ragazza molestata. Quando si è costituito i poliziotti conoscevano già il suo nome. Pensavo di essere uscito ma ci sono ricaduto, pensavo di essere guarito, avevo una vita normale, una fidanzata, volevo sposarsi. Però sono ricaduto, voglio essere curato a quanto ha detto quando si è costituito in procura a Milano ed è stato fermato. Edgar Bianchi, definito il maniaco dell'ascensore, avete sentito. Era uscito dal carcere nel 2014 dopo otto anni scontati per una ventina di violenze sessuali. Domani in tutta la Lombardia manifestazioni contro la violenza sulle donne. A Milano appuntamento in piazza Beccaria dalle 18.30 alle 20.30. Tra gli organizzatori, la CGL, abbiamo sentito il segretario regionale. Domani grande mobilitazione in tutta Italia contro la violenza sulle donne. Manifestazioni e presidi in tutte le città lombarde. A Milano appuntamento in piazza Cesare Beccaria dalle 18.30 alle 20.30. Femminicidi, stalking, violenze fisiche e psicologiche. Un'occasione per dire basta e per proporre modifiche legislative. L'iniziativa di domani è stata lanciata con un appello nazionale firmato da molte donne, non solo della CGL, anche se è partito da Susanna Camusso e dalla segreteria della CGL nazionale, contro qualsiasi forma di violenza contro le donne. Cioè con un'idea che è necessario in questo paese costruire mobilitazione, movimento, iniziativa relativamente a sconfiggere un male oscuro, che è il male oscuro della violenza, della libertà femminile negata nel momento in cui sul corpo delle donne ovviamente continua ad agire una leva che è quella della mancanza di libertà, che significa mancanza di movimento, libertà nei luoghi di lavoro, libertà nelle piazze, libertà di essere, libertà di scegliere, libertà di decidere. Proprio ieri è stato arrestato, la polizia ha fermato un presunto molestatore di una ragazzina di 13 anni. Sembra proprio che questo filone sia infinito, non termini mai. Gli eventi sono assolutamente drammatici, cioè peraltro non c'è età, la ragazzina di 13 anni, la signora anziana di 70 anni. C'è proprio un'idea che in fondo a prescindere, come dire, appunto dal che cosa le donne sono, rappresentano, ci sia la possibilità per un uomo di poter accedere al corpo indipendentemente dalla volontà della donna. Osman Matamud non era uno dei capi del campo di Banivalid, ma un migrante che ha viaggiato con altri migranti, non aveva possibilità economiche e si è comportato come gli altri. Un passaggio della ringa dell'avvocato Gianni Carlo Rossi nel processo davanti alla Corte d'Assise di Milano a carico del 22enne di origine somala, fermato un anno fa, lo vedete in queste immagini, il capologo Lombardo è accusato di avere ucciso, torturato e stuprato decine di persone in un campo in Libia. Non ha mai commesso questi reati, ha sottolineato il suo difensore. Lui non riesce a comprendere perché sia stato accusato. Secondo il difensore, a riprova che Matamud non fosse, come ricostruito dal PM Tatangelo, uno dei capi del campo dove sarebbero avvenute le sevizie ai danni di centinaia di migranti in viaggio verso l'Europa, ci sarebbero i contatti che il giovane avrebbe avuto su Facebook con una delle presunte vittime, che poi lo hanno denunciato quando lo hanno rivisto alla stazione centrale di Milano. La sentenza è attesa per il 10 di ottobre. Il pubblico ministero Tatangelo, nella sua requisitoria due giorni fa, ha chiesto di condannare l'uomo all'ergastolo. Novità in vista nel dibattito politico sulla possibile costruzione di moschee e luoghi di culto in Italia. Nel piano per l'accoglienza dei migranti, il ministro dell'Interno Marco Minniti ha posto condizioni molto precise per quanti vogliono erigere questi luoghi di preghiera, un problema del quale si discute anche a Milano da molto tempo. Il piano del governo per l'accoglienza di 75 mila profughi che avranno tenuto lo status di rifugiato, tra le altre cose prevede anche regole e norme precise per la realizzazione di moschee nel territorio nazionale. Il ministro dell'Interno Marco Minniti è stato molto chiaro a tale proposito. A chi avanzerà la richiesta di edificare una moschea dovranno essere vagliati con estrema attenzione i finanziamenti, da dove provengono i soldi, società estere o italiane, oppure da quale stato estero e se vi siano triangolazioni sospette o enti più o meno nascosti. Inoltre i sermoni all'interno dovranno essere rivolti ai fedeli sempre in lingua italiana e i nomi degli imam dovranno essere conosciuti e non è esclusa la possibilità di creare un registro a livello italiano. Quindi bando agli imam improvvisati o chi ha precedenti penali. Insomma il governo dice sì alle nuove moschee ma con regole estremamente ferre, senza dare adito a possibili equivoci. Per quanto riguarda Milano, che come noto è alle prese con la normativa regionale, è essenziale l'approvazione del nuovo piano di governo del territorio, prima di dare il via a possibili realizzazioni di luoghi di culto. Tutto il precedente iter è stato stoppato da Palazzo Marino, dopo vari ricorsi con differenti sentenze. Secondo molti ci vorrà almeno un altro anno per giungere ai nuovi bandi che ovviamente dovranno tenere conto delle disposizioni regionali alle quali ora si aggiungeranno anche le direttive governative. Le associazioni islamiche hanno protestato perché dicono di aver già sostenuto i costi ingenti dei progetti ed ora è tutto fermo. E in vista delle prossime elezioni, sia nazionali che regionali, parlare di moschee in questo momento sembra non essere conveniente al mondo politico. È quanto mai indispensabile che venga approvato lo Ius Soli, Ius Culture, lo sostiene la CGL Lombardia che invita il Parlamento a riprendere la discussione del disegno di legge. Il problema è particolarmente avvertito in una regione come la Lombardia con 203 mila studenti non italiani. Vediamo. Riteniamo indispensabile l'approvazione dello Ius Soli, Ius Culture, per migliorare le condizioni di vita di una fetta consistente della popolazione che vive in Italia. Lo sostiene la CGL della Lombardia che oggi ha diffuso una nota. A ragion veduta possiamo dirlo dalla nostra regione, la Lombardia, prima regione nel paese per numero di presenze straniere. Il territorio lombardo è abitato da persone che provengano da molti altri paesi del mondo, segnale di un cambiamento demografico in atto. Prova ne è l'alto numero di risposte positive alle richieste di cittadinanza. Secondo l'ISMU, la Lombardia, oltre a detenere il primato per numero di nuovi cittadini, nel 2015 un quarto di tutte le acquisizioni, registra la più alta percentuale di cittadinanze ottenute tramite trasmissione o elezione, 44,4%, dunque il più alto numero di nuovi italiani. Il numero di giovani stranieri è altrettanto importante. La Lombardia detiene il primato anche per la presenza di studenti non italiani. Sono 203.979 giovani non italiani che frequentano la scuola nella nostra regione, un quarto di quelli presenti in Italia. Nella provincia di Milano sono circa 82.000, il dato più alto in Italia. A Brescia 32.700, a Bergamo 25.200. La maggioranza degli studenti stranieri, sempre secondo le analisi del MIUR, è di seconda generazione, dunque non ha la cittadinanza italiana. La componente di alunni nati in Italia, ma privi di cittadinanza, è sempre più in crescita. Questi dati ci portano a ribadire, secondo la CGL, quanto abbiamo espresso più volte anche in piazza. Non approvare lo ius soli, ius culture, danneggia moltissimo i nuovi cittadini, nati nelle nostre province che però cittadini non sono. Secondo Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Partito Democratico, adesso non ci sono i numeri ed è impossibile far approvare il disegno di legge. Per Matteo Salvini, leader della Lega, oggi a Milano, lo ius soli è finito. La pagina sindacale, i precari della città metropolitana di Milano sono tornati ad occupare la sede dell'ente in via Vivaio per la difesa del lavoro e del futuro dell'ente. La storia si ripete, hanno spiegato i dipendenti ai quali viene rinnovato il contratto periodicamente, a tempo determinato da una decina d'anni. La città metropolitana di Milano è nuovamente sull'orlo del dissesto. Noi, 33 precari, dicono con contratto in scadenza al 30 settembre 2017, cioè in scadenza domani, garantiamo l'erogazione di servizi fondamentali. Da lunedì rimarremo a casa. L'Assemblea dei lavoratori della città metropolitana per questo motivo ha votato il presidio permanente. Rimaniamo in ambito sindacale perché a Milano sciopero di ATM il 6 ottobre, i dipendenti sciopereranno, i dipendenti dell'ATM. L'agitazione è stata proclamata dalla Confederazione Unitaria di Base e Trasporti. Si preannuncia dunque una nuova giornata di sciopero dei mezzi pubblici a Milano il 6 ottobre. Si prospetta l'ennesimo venerdì nero per la protesta dei lavoratori. Quindi l'agitazione è fissata dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine di servizio, ricordiamo, di venerdì prossimo, 6 ottobre. Riunione nella periferia est di Milano nel quartiere dell'Ortica per l'aggiunta del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Tra gli argomenti affrontati e segnalati anche dalla Presidente del Municipio 3, Caterine Antola, le condizioni del quartiere Rizzoli, che ha una carenza di esercizi commerciali, servizi sociali e luoghi di ritrovo con stabili abbandonati da riqualificare. Poi la situazione di Cittastudi, che dovrà affrontare lo spostamento delle facoltà scientifiche della Statale nell'ex area Expo. Sentiamo cosa ci ha detto il primo cittadino al termine della riunione di giunta. Sì, poi l'Ortica obiettivamente è veramente un quartiere in cui l'anima è rimasta molto. Stamattina abbiamo fatto giunta, abbiamo parlato un po' delle problematiche in generale della zona allargata. In alcuni casi, come questa, la situazione è un po' migliore. È anche un quartiere di grandi trasformazioni, perché fra l'università che dovrebbe trasferirsi, il Besta che dovrebbe trasferirsi, si apre un orizzonte che potrebbe anche essere rischioso. Sì, non dico che la fiducia nell'amministrazione vada data a scatola chiusa, però per esempio tutto il tema di Cittastudi noi lo stiamo presidiando per dare garanzia che il quartiere non si svuoti. Non sarebbe intelligente neanche dal nostro punto di vista spostare problemi da una parte e dall'altra. Quindi diciamo che la partecipazione e la pressione dei cittadini serve anche per questo. Noi siamo responsabilizzati bene, però se i cittadini spingono per far sì che ci sia chiarezza nella nostra strategia, non può che essere vista in maniera positiva da noi. Dopo 22 anni le Acli tornano in piazza per una tre giorni di festa e riflessione su Milano, città inclusiva, ad aprire l'evento oggi pomeriggio. L'ex premier Romano Prodi e il sindaco di Milano, che avete appena sentito, Sala ha ricordato anche Giovanni Bianchi, ex presidente nazionale delle Acli e cofondatore dell'Ulivo. Anna Maria Braccini. Milano, città inclusiva, o meglio, verso una Milano grande, più inclusiva. E' questo lo slogan con cui le Acli di Milano, Monza e Brianza, hanno chiamato a raccolti i cittadini per una tre giorni di riflessione, di battito, ma anche di festa. L'evento, volutamente in piazza per tutti, è stato aperto in piazza, appunto, Santo Stefano, nel cuore di Milano, da un dialogo a 360 gradi, sul ruolo della coesione sociale, le periferie, l'area metropolitana, la politica e il welfare. Protagonista con il sindaco Sala, l'ex premier Romano Prodi, che ha risposto alle domande del presidente provinciale delle Acli, Paolo Petrach. Il ricordo iniziale è stato per Giovanni Bianchi, ex presidente storico delle Acli, figura di spicco del cattolicesimo impegnato, scomparso lo scorso 24 luglio. Lei ha scritto in un libro, qualche tempo fa, che è stato costretto a fondare l'Ulivo. Ho detto che ero stato in fondo incastrato da degli amici, non costretto. Stretto. Tra gli amici c'era anche Giovanni Bianchi. Era il semplice progetto di riunire assieme tutte le forze riformiste che la storia aveva diviso. Questa città, secondo lei, ha bisogno comunque di più inclusione? Molto, molto, non c'è dubbio. È lo sforzo che stiamo facendo, ma sappiamo che il lavoro è ancora lungo, però è più facile cercare l'inclusione quando le cose vanno abbastanza bene. Quindi non c'è contrapposizione. Domenica la conclusione della tre giorni. Alle 13 con un pranzo comunitario e saluto al nuovo arcivescovo, Monsignor Mario Delpini. Cambiamo argomento. Tra i grandi paesi europei, l'Italia è quella che ha l'aria più inquinata, il maggior numero di morti per inquinamento atmosferico. La zona più inquinata è in assoluto dal particolato fine, le cosiddette PM 2,5, e la pianura padana, soprattutto intorno a Milano e tra Venezia e Padova. Lo rivela il rapporto, la sfida della qualità dell'aria nelle città italiane, che è stato presentato oggi a Roma dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile, presieduta dall'ex ministro Edo Ronchi. L'Italia, si legge nel rapporto, ha circa 91.000 morti premature all'anno per inquinamento atmosferico, contro le 86.000 della Germania, 54.000 della Francia, 50.000 del Regno Unito, 30.000 della Spagna. Dei 91.000 morti in Italia, 66.630 sono per le polveri sottili PM 2,5, 21.000 per il disossido di assolto, 3.380 per l'ozono. Per le polveri sottili PM 2,5 si contano nel nostro paese 1.116 morti premature all'anno per milione di abitanti, contro una media europea di 860. La zona dove il particolato fine uccide di più è proprio l'area di Milano e Interland, poi Napoli, Taranto, l'area industriale di Priolo in Sicilia, le zone industriali di Mantova, Modena, Ferrara, Venezia, Padova, Treviso, Monfalcone, Trieste e Roma. Certamente un quadro non edificante. Metropolitana milanese SPA ha comunicato agli inquilini del complesso di Via Rizzoli a Milano la fine dell'emergenza legionella. Le operazioni di sanificazione bonifica erano iniziate immediatamente il 29 agosto scorso. La tecnica individuata da Metropolitana milanese, spiega l'azienda, ha permesso di compiere l'operazione senza sospendere l'erogazione dell'acqua. Le analisi effettuati dopo il primo periodo di sanificazione bonifica hanno dato esiti negativi, quindi in accordo con ATS è considerata chiusa la fase emergenziale. Tuttavia a titolo precauzionale il protocollo per il trattamento dovrà proseguire ancora per qualche settimana. Da oggi fino a domenica 1 ottobre tra Piazza Castello e Piazza del Cannone è stato allestito il villaggio degli agricoltori col diretti, un'iniziativa a ingresso gratuito dedicata ai prodotti delle campagne italiane. Al villaggio è possibile provare menù gourmet, acquistare prodotti a chilometri zero, o far conoscere ai più piccoli gli animali delle fattorie. Io sto con i contadini, è un'occasione per scoprire o riscoprire le bellezze della campagna italiana, ma anche un modo per entrare in contatto con le storie, il sudore e la passione di chi trascorre lavorando le giornate sui campi o nelle serre. Secondo la Reuters, se parliamo di calcio, il proprietario cinese del Milan, Li Yongong, sta cercando uno o più investitori per ripartire l'onere finanziario a meno di sei mesi dall'acquisto del club. I consulenti del proprietario rossonero sarebbero al lavoro per rifinanziare il debito con il fondo statunitense Elliot, impori in questo caso ci sarebbero Goldman Sachs e Mary Lynch. La famosa agenzia di stampa riferisce di aver contattato il club di Vialdo Rossi che però ha negato potenziali cambi nella proprietà del club. Si parlerà anche di questo tra poco, Nova Stadio Sprint, in onda subito dopo questa edizione LTGN. In studio con Luciano Rindone ci sarà l'avvocato Dante De Benedetti che è esperto di operazioni societarie. Subito dopo, linea d'ombra alle 20.30 con Adriana Santacroce. In testa, faccia a faccia, Moschee e Musulmani che vedrà contrapposti Stefano Cassinelli, segretario nazionale del partito anti-islamizzazione e Francesco Rizzati dell'associazione Enrico Berlinguer. Subito dopo, il talk show con le vostre telefonate da casa. Sul piano Minniti, Luglio Soli e la violenza sulle donne. In studio, Pietro Bussolati del Partito Democratico e l'annuario a cimbro della MDP. Emilio Fede, giornalista e Fabio Altitonante di Forza Italia. È tutto, grazie alla cortese attenzione. Dal TGN l'augurio di una serena serata, di un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.